Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. In primo piano sui giornali di oggi naturalmente le elezioni in Umbria, urne aperte oggi per il rinnovo del Consiglio regionale per l'elezione del Governatore. Ma si parla naturalmente anche di economia, in particolare della manovra. Il decreto fiscale entra in vigore da oggi, anche se per alcune misure bisognerà aspettare qualche mese. Intanto si mettono gli ultimi dettagli per quanto riguarda la legge di bilancio. Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, adesso poi li vedremo. Si parla naturalmente anche delle indagini sulla morte di Luca Sacchi, ucciso a Roma con un colpo di pistola alla nuca. Si cerca di fare chiarezza, intanto i due indagati restano in carcere. Ieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Poi si parla anche del sinodo sull'Amazonia che si è chiuso con un'apertura da parte dei Vescovi alla possibilità appunto di introdurre i diaconi sposati. Allora partiamo subito dal Corriere della Sera. Eccolo qui il titolo principale riguarda appunto l'economia. Cugno fiscale in due tempi, Conte ora solo 3 miliardi dal 2021, più fondi Salvini basta prese in giro. Ieri il Premier ha difeso di fronte agli artigiani la manovra. Mattarella ha firmato il decreto fiscale, reddito di cittadinanza revocato ad un beneficiario su 10. L'ombra lunga dei leader sui candidati presidenti, si parla naturalmente delle elezioni in Umbria. Poi da Zingaretti a Meloni la posta in gioco con il voto. Vediamo ancora il giallo sui contatti di Anastasia con i rapitori, l'inchiesta e la ragazza di Luca. Gli inquirenti si stanno appunto concentrando sulla sua figura e soprattutto sul suo ruolo in tutta questa vicenda. E poi l'apertura del sinodo ai sacerdoti sposati nelle zone remote dell'Amazzonia, dove appunto è molto difficile l'accesso per i sacerdoti, addirittura appunto per periodi lunghissimi. Non se ne vede nemmeno uno. E poi ancora negli Stati Uniti il contratto del pettagono stipulato con Microsoft, lo sgambetto miliardario di Trump, arredi Amazon. Ancora andiamo a vedere l'apertura della Repubblica, eccola qui, se perdiamo male, addio coalizione. La linea del leader 5 Stelle in caso di disfatta niente più alleanze locali con il Partito Democratico. Salvini avviso distratto al governo, Renzi si smarca, presenterà le liste del suo partito soltanto in Toscana nella primavera del 2020. Perché dobbiamo dirlo, dopo il voto in Umbria inizierà appunto una lunga serie di consultazioni a livello regionale. Le prossime regioni saranno l'Emilia Romagna e la Calabria e poi via via altre regioni. Conte che dice no all'odio contro la Segre, subito una legge. La Segre appunto bersagliata quotidianamente da pesanti messaggi di odio. E poi ancora sempre dalla Repubblica la notizia che riguarda il sinodo dei Vescovi che apre i preti sposati. Valutare anche il diaconato femminile. Su questo non è stata presa nessuna posizione ma è stato chiesto al Santo Padre di riaprire appunto presto la discussione. La stampa apre proprio sul sinodo dell'Amazzonia. Eccolo qui, i Vescovi aprono al sacerdozio per i diaconi sposati. L'Amazzonia cambia la Chiesa proprio sulla spinta di questa necessità. Ancora le elezioni in Umbria. Salvini in cerca della rivincita su Di Maio. Test per la maggioranza giallorossa. Il capo grillino si gioca la leadership. Urne aperte appunto si sono aperte e si stanno aprendo proprio in questi minuti. Dalle 7 fino alle 23 di questa sera in 700 mila. Eleggeranno il nuovo presidente. A questo proposito colgo l'occasione per ricordarvi il nostro speciale condotto dal direttore Enrico Mentana. Dalle 23 in poi proprio per seguire tutti i risultati di questo voto in Umbria. Siamo sempre sulla prima pagina della stampa. Parla Giacchetti, deputato di Italia Viva, con il Movimento 5 Stelle. No all'alleanza stabile o andiamo a sbattere. Ancora apertura del messaggero. Eccola qui, dedicata ai temi economici. Evasoria e contante. Stretta graduale via al decreto fiscale. Limite ai pagamenti cash da luglio. Da fine anno carcere più facile. Tassa sulla plastica. Si salva quella riciclata. Conte dal 2021. Annuncia il taglio del cuneo alle imprese. Ha detto per il momento ci occupiamo dei lavoratori. Ma appunto ha promesso questa misura. Ancora oggi le regionali. Umbria al voto governa la prova in una terra che sta cambiando pelle. Ancora sul messaggero. L'amico del killer di Luca. Sbagliato. Colpirlo. Pagherà. Abbiamo detto che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Però ci sono state delle dichiarazioni spontanee. Sembra appunto che uno dei due abbia detto ero lì soltanto per una rapina. Non sapeva appunto che l'altro, Valero De Grosso, fosse armato. I soldi, l'aggressione, la droga, le versioni contrastanti di Anastasia, la fidanzata di Luca. Ancora l'appello. Lo Stato ora segue l'esempio di mamma Giovanna che è stata appunto lei a denunciare il figlio. E ancora vi volevo segnalare questa notizia di sport. Rugby, Nuova Zelanda, shock, inglesi in finale perché gli All Blacks sono andati KO dopo ben 12 anni. Questa è la fine del mondo. Il titolo che ci racconta appunto quello che è successo ieri nel rugby. Andiamo rapidamente anche all'apertura del sole. 24 ore, quotidiano economico. Fidei usioni false, il nuovo business della criminalità. c'è questo allarme della Guardia di Finanza in 4 anni scoperti illiciti per 1,6 miliardi. Sottotiro le false polizze e quelle rilasciate dai non autorizzati. Bene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e riprendiamo subito dopo con la rassegna stampa. Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del fatto quotidiano che ci racconta l'incredibile caso di whistleblower. Sarebbe quella legge che tutela i lavoratori che fanno delle denunce nell'ambito del loro posto di lavoro. Questo dipendente ha segnalato la mala gestione dell'ente. Denuncia si è licenziato e scaricato dall'ANAC, dice il fatto quotidiano. L'anticorruzione lo ritiene attendibile ma non lo difende perché è accusato di aver parlato con il fatto. Apertura del giornale, eccola qui. L'idea di Forza Italia, limite delle tasse al 30%. Ecco come si può fare, flat tax sull'IRPEF e contributo regionale, così riparte il paese. Mattarella che dice imposte più equi per le imprese. All'apertura di Libero, eccola qui. 6 milioni di italiani detestano i vecchi, accettano le follie di Grillo. Il 13% degli elettori, un grillino su quattro, vogliono davvero togliere il diritto di voto a chi ha più di 65 anni. La cultura dell'odio di Laga. Andiamo all'apertura del manifesto, eccola qui. Asta la vittoria, un milione di persone invade Santiago del Cile per chiedere una nuova Costituzione per denunciare le diseguaglianze del modello neoliberista e le violenze dei carabineros. Il presidente Pignera revoca lo stato d'emergenza e annuncia un nuovo governo. Davvero manifestazione fiume in Cile. Andiamo al tempo. L'Umbria vota, Conte trema e si parla anche del giallo della Caffarella. Ci dice il tempo. Si complica. La fidanzata non convince i PM. Andiamo all'apertura della verità. Eccola qui, il lettera del ministro all'Unione Europea. Il governo confessa 12 miliardi di tasse. Qualtieri scrive ai commissari nuove entrate per lo 0,7% del PIL. In cambio avremo 3 miliardi di taglio del cuneo. Il resto paghiamo noi, compreso il fondo anti-imposte finanziato con 5 miliardi di imposte. E poi ancora vediamo l'apertura dell'avvenire dedicata appunto intanto al sinodo sull'Amazzone. Più spazio al diaconato, più coinvolte le donne. E poi l'avvenire ci racconta quello che è successo. Fuoco sui profughi. Ocean Viking ancora senza porto. Boltrini ad avvenire. Vanno riviste l'intese con Sarraj. Per quanto riguarda questo titolo, fuoco sui profughi. I libici sparano all'Alan Kurdi che aveva appena soccorso 90 profughi. Tripoli chiede l'arresto del trafficante via. Conferme sul suo viaggio in Italia. E poi ancora c'è un'inchiesta interessante, importante. Troppi malati lasciati sole. L'Italia che non si cura per crisi e lacune sanitarie. Una pessima naturalmente notizia. Allora andiamo subito alle pagine interne dei quotidiani per vedere rapidamente intanto i temi economici. Abbiamo detto oggi entra in vigore il decreto fiscale ma si parla anche di reddito di cittadinanza. Siamo sul Corriere della Sera. Il reddito viene sospeso ad una famiglia su 10. Lo Stato risparmia 2 miliardi. I dati non sono stati integrati. Metà sono extra comunitari. L'Inps ha inviato tre settimane fa l'avviso sul completamento delle informazioni. Le famiglie beneficiari del reddito erano stimate in 1,248 milioni e scendono ad 850 mila. Ancora sempre sul Corriere della Sera c'è questo schema che ci racconta appunto un po' il punto della situazione su contanti e evasori post quali sono le nuove misure in arrivo e poi soprattutto bonus di 30 euro per i seggiolini anti-abbandono. Naturalmente su questo c'è una battaglia tra il governo giallorosso e l'opposizione. Il blitz di Conte nel fortino della CNA ieri ha parlato all'Assemblea degli Artigiani. Flat tax inalterata fino a 65 mila euro. L'allarme della categoria non accanitevi su di noi. E poi Salvini invece che lo marca. Il premier è andato a prendere in giro gli artigiani. Lo Stato parla di manette e paghi prima i suoi debiti. E ancora volevo segnalarvi dalla Repubblica questa intervista al Vice Ministro dell'Economia Misiani. Evasori no alle manette, rivediamo le tasse su bibite e plastica per ridurre l'evasione, dice Misiani in questa intervista. Il punto chiave non è il codice penale, la via maestra è incentivare il passaggio alla moneta elettronica. Questo governo insiste molto su questo. Abbiamo evitato la stangata IVA ma l'obiettivo è ridurre la pressione in positiva e rafforzare le misure per famiglie e anziani non autosufficienti. Questa sarebbe appunto la linea del governo. Ancora per quanto riguarda le misure c'è anche il messaggero che ne parla. Carcere e limiti al contante. Stretta graduale sull'evasione. Da luglio nuovi vincoli per le banconote. L'incremento delle pene partirà a fine anno. Salta l'accesso delle aziende militari ai fondi della cooperazione. De scontro tra esteri e difesa possibili ulteriori aggiustamenti in Parlamento durante l'iter di conversione del testo. Cambiamo argomento. Andiamo a parlare appunto dell'uccisione di Luca Sacchi avvenuta nella notte di mercoledì a Roma. La rete dei due spacciatori. Il killer non voleva uccidere Roma. Scusate Luca. L'arma e la fuga sarebbero emissari di una band più strutturata e il silenzio delle famiglie. Da un paio di giorni o forse di più Anastasia aveva preso contatti per l'acquisto di un ingente quantitativo di marijuana. Lo dice la logica. Nello zaino aveva 2000 euro in mazzette da 20 e 50 euro. Pari al valore di 3 kg di erba all'ingrosso. E lei non avrebbe potuto reperire quella cifra per la droga in una serata. Lo conferma Simone Piromalli, emissario di Valerio del Grosso, che ha fatto tramite per l'affare e l'acquisto. Erano interessati tre ragazzi. Una ragazza avrebbe detto e lo proverebbero i tabulati telefonici. Gli esami sono ancora da ultimare, dai quali risulterebbe uno scambio di messaggi tra la fidanzata di Luca Sacchi e i futuri assassini del 24enne. Questo appunto è quello che ci racconta il Corriere della Sera, dal quale però vi segnalo anche un altro articolo in cui si parla di questa ragazza. Palestra, foto e sfilate, i misteri di Anastasia, il vaglio e i contatti con Del Grosso e con Pirino. Le persone che la conoscono la difendono. Dicono, per esempio, un ristoratore davvero gentile e dolce, una grande lavoratrice. Mi fido ciecamente tanto da lasciarle mia figlia. Quindi appunto c'è da fare chiarezza sulla figura di questa ragazza. Per quanto riguarda la somma che leva nello zaino, Repubblica addirittura dice Il mistero dei 20.000 euro, la notte in cui il giovane è stato assassinato e i dubbi sul ruolo della fidanzata. Questo articolo, leggiamo un attimo che cosa significa questa somma di cui parla Repubblica. Inizialmente si era parlato di 2.000 euro, ma gli investigatori sospettano fossero molto di più. Una cifra tra i 10.000 e i 20.000 euro sufficiente, in ipotesi ad acquistare anche un bel po' di cocaina. Le banconote non sono ancora state ritrovate. Piro Malli, appunto, che verrebbe fatto da tramite e a verbale dichiara che le ragazze e una ragazza sono interessate alla droga e che la consegna non avveniva per la mancanza dello stupefacente. Aggiunge che Del Grosso e il suo accompagnatore Paolo Pirino si impegnavano ad andarlo a prendere tra le 21.30 e le 22.30, quindi al John Cabot, fanno la loro comparsa anche i due ragazzi ora rinchiusi a Regina Celi. Quindi vedete, in queste ore si stanno aggiungendo elementi a questa vicenda per cercare appunto di fare chiarezza. Sul messaggero oggi c'è un'intervista ad un amico di Valerio Del Grosso, non era giusto coprirlo, adesso Valerio pagherà, parla Manuel, amico del 21enne accusato del delitto, abbiamo avvertito i genitori, mi ha telefonato e ci siamo incontrati, era confuso e mi ha detto gli ho sparato, non gli ho chiesto spiegazioni, dice questo ragazzo in questa intervista, perché non riusciva a crederci, ha sbagliato, ma io gli vorrò sempre bene. E sempre rispetto alla figura della fidanzata di Luca, c'è il giallo della ferita, la doppia versione, l'inchiesta punta sul suo ruolo, la 25enne ha detto di essere stata colpita con una mazza ma sul suo corpo non sono stati trovati segni, quindi un altro elemento su cui fare chiarezza. Cambiamo argomento perché volevo parlarvi di questa apertura dei Vescovi al Sinodo sull'Amazzonia, sia i preti sposati, ora deciderà il Papa il documento del Sinodo per l'Amazzonia, la svolta sul ruolo femminile, voto a maggioranza con l'opposizione dei circoli ultraconservatori. I Vescovi aprono la possibilità di ordinare preti sposati, richiedono un ministero di donna dirigente di comunità e domandano al Papa che ha subito accettato di riconvocare la commissione sul diaconato femminile. Sono questi appunto i principali risultati del Sinodo per l'Amazzonia che era stato convocato da Francesco. Poi ci sono anche delle novità pastorali ed ecologiche approvate che hanno appunto un valore universale. Bene, noi ci fermiamo per la rassegna stampa e tutto, adesso la linea Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo. Sì, buongiorno, queste sono le piogge previste per la prima parte della giornata di oggi, del tutto assenti sulla penisola dove ormai il tempo è ancora stabile. E invece vedete che le piogge deboli o localmente moderate che sfiorano la Sardegna e sfiorano un po' più da vicino direi la Sicilia perché vedete sullo stretto c'è il blu di qualche fenomeno un pochino più intenso. Vediamo come evolve la giornata nella seconda parte della giornata di oggi. Vi ricordo che il calcolo adesso siamo passati, siamo tornati in ora solare, il calcolo è alle 13, quindi dalle 1 alle 13, dalle 13 alle 1. Deboli in Sardegna, localmente forti, vedete proprio in vicinanza della Sicilia dove sulla parte occidentale qualche pioggia comunque ci può essere, sono previste sul mare ma capite che non ci sono muri, quindi in questa zona ci sono facilmente temporali. Vediamo la giornata di domani, lunedì, ancora questa zona dello stretto di Sicilia, della Tunisia dove ci possono essere ancora temporali, le piogge sulle isole maggiori deboli, però guardate come riaumenta la nuvolosità al nord, diventa abbastanza grigia, c'è una copertura parziale almeno del cielo. Sulle zone alpine qualche precipitazione debole, alpine o prealpine, il Trentino insomma scende un po' anche verso sud, al di là del confine le piogge moderate, quindi lì c'è un cambiamento del tempo. Vediamo anche la giornata di martedì e vedete che il cambiamento c'è. Al sud si resta sulle isole con qualche debole precipitazione isolata, le nuvole aumentano anche al centro, al nord abbiamo piogge in Liguria, piogge localmente forti, vedete di nuovo il giallo, che partono proprio dall'alto Piemonte, dal confine, poi la Lombardia, il Trentino, il Friuli Venezia Giulia sulla parte più settentrionale, ma insomma sembrerebbe proprio una fase di maltempo abbastanza marcato. Le minime di questa mattina si mantengono sui valori di ieri, un poco sono scese, ma come dicevamo soprattutto per effetto del cielo sereno, non perché sia entrata aria particolarmente fredda, e lo stato dei mari che piano piano in situazione tranquilla tende a tranquillizzarsi anche lui, quindi il celeste è un mare poco mosso, localmente mosso, l'azzurro, ma vedete che oltre questo non si va. Se volete noi ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale.